Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Pisa, per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est, rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme. Sulla PIPILI in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna, rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna, in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, per lavori, rallentamenti in direzione Siena, tra l'allacciamento per la 1 di Firenze Imprunita e San Casciano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!